Maurizio Semenzato, commissario tecnico dell'Under 23 femminile del Veneto, al termine della gara della terza giornata vinta 2-1 contro il Piemonte, una gara che vale l'accesso ai quarti di finale da prima del girone, mister direi la prestazione che volevate, insomma non accontentarsi ma aggredire l'avversario e vincere. Sicuramente sì, noi siamo partiti per vincere la partita perché un pareggio e anche una sconfitta deve essere utile, però noi vogliamo andare in campo e fare sempre risultato pieno anche per mettere in preventivo il discorso per le prossime partite. Sapevamo che la squadra è un po' ostica, nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo tempo loro hanno cambiato le riserve con le titolari e noi abbiamo sofferto un po' però le ragazze oggi hanno dimostrato veramente gioco e carattere, il risultato è giusto perché a fin dei conti abbiamo avuto anche altre occasioni, non le abbiamo sfruttate. Marta Abbasso al termine della gara della terza giornata dei gironi qui al torneo delle regioni in Abruzzo, Marta l'Andra 23 femminile del Veneto c'è, vince 2 a 1 grazie al tuo gol e un assist decisivi contro il Piemonte, andate ai quarti di finale, insomma l'avventura continua, adesso cosa vi aspettate? Ci aspettiamo altre belle partite, volevamo passare per prima per trovare così magari una seconda, siamo contenti della prestazione, non volevamo venire qui a pareggiare o a perdere ma l'isodato l'unico era la vittoria.